L'8090, collezione di Franco Bolli d'Italia Repubblica dal 45 al 2015, usata all'inizio. Anche qua vado veloce. I gennici qua sono nuovi, la Repubblica Romana. Le cartelle Bollafi hanno pure la loro custodia. Qua siamo ancora con i Franco Bolli usati. Come si vede, è completa. Qua siamo all'84. Vanda, vanda! Qua andiamo a 85, qua andiamo più avanti e qua cominciamo con questi Franco Bolli con i ritagli e tutti gli annulli degli sportelli filatelici. Qua abbiamo Franco Bolli nuovi. I fogli in questo caso sono fogli marini che sono stati riadattati tagliando l'angolino e entrano perfettamente anche nella cartella Bollafi. Qua torniamo a Franco Bolli usati. Qua torniamo a Franco Bolli usati. Qua per il collezionista di usato c'è tanto moderno che non è semplicissimo da trovare. c'è più per le quare. Chiappure qua. Chiappure qua. Chiappure qua. I valori, quello di seta, e per finire l'ultimo volume, qua c'erano un po' di servizi, arriva fino al 2015, se volete altre informazioni, video foto, scrivete al negoziocchioccio, laquattrobaiocchi.com.